Ciao Guglielmo, ti abbiamo visto con molta carica alla fine della partita, ti chiedo quanto peso ha questa vittoria, soprattutto per come è stata ottenuta, perché al di là dell'episodio finale l'Empoli ha saputo anche soffrire nel momento in cui è rimasto in dieci per l'assenza di Ismaili, dovuto all'infortunio. Sicuramente è una vittoria importante, ma al di là di quelli che sono i discorsi della classifica, penso che sia il culme del lavoro che facciamo tutti i giorni e di quello che proviamo, siamo stati bravi a calarci un po' nella gara, che era una gara sporca, una gara di combattenti oggi, quindi quello penso sia stato il nostro merito più grande, nella sofferenza e nel rimanere lì sul pezzo capendo il tipo di gara che c'era da fare. Quindi ci teniamo stretta questa vittoria e continuiamo a lavorare, a preparare gara dopo gara come abbiamo sempre fatto, non ponendoci limiti. Se vogliamo trovare un piccolo difetto è il fatto di non averla chiusa prima, al di là poi del finale che tutti abbiamo visto. Sì, è sicuramente un doppio vantaggio, ti dà sempre un po' magari un po' più di gestione, poi non sempre, perché domenica scorsa non è andata proprio così, quindi direi che andrei a guardare soprattutto quello che è stato fatto nel momento in cui andava appunto mantenuto con le unghie e con i denti questo risultato e penso che la squadra oggi l'abbia fatto egregiamente. Ciao Guglielmo, buonasera e complimenti ancora una volta. Ti chiedo, anche oggi sei stato autore di due o tre interventi veramente provvidenziali, userei questo termine. L'ultimo, quello su cui poi è nato anche l'episodio del gol, però è stato un intervento molto difficile. Dei tre, due o tre interventi, qual è stato il più difficile se veramente quello che ho appena citato è stato un intervento difficile? Ma è stata una palla insomma ben battuta e colpita da vicino in maniera molto rapida, quindi c'era poco tempo per reagire, però non lo so, non è che mi interessi tanto analizzare quello che è stata la parata più bella, detto proprio personalmente. Mi piace più sottolineare quello che abbiamo fatto tutti insieme perché penso che andando avanti a pensare con il noi, noi possiamo fare veramente delle grandi cose e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo nel bene e nel male dei momenti che poi passano all'interno di una stagione e dello sport soprattutto, quindi questo è quello che ci deve alimentare tutti i giorni la voglia di ritrovarci, di stare insieme, di soffrire, di condividere insomma diversi sentimenti perché poi siamo una famiglia quindi è bello anche riuscire a mantenere sempre l'asticella in posizione orizzontale e non farsi prendere dai momenti di euforia e neanche da quelli di sconforto. I tuoi tifosi stasera sono andati via molto contenti, però ogni partita li fate soffrire alla morte, nel senso è sempre un bel batticuore, come si potrebbe dire. Pensi che nella seconda parte della stagione questa squadra potrà maturare e farli soffrire un po' meno, magari mettendo al sicuro il risultato, lo stavi dicendo prima? Penso se non si soffrisse, se non si facessero i punti sarebbe ancora peggio, penso, quindi io, chiaro tutti piacerebbe vincere 3-4-0 ma non lo fa nell'Inter, nel Milan e nel Napoli probabilmente, forse solo nel Napoli ultimamente. In Serie A penso che sia difficile contro qualsiasi avversario riuscire a imporsi e quindi bisogna sapersi calare all'interno delle partite e rimanerci attaccati con le unghie e con i denti. Poi ci sono gli episodi che alcune volte probabilmente si potrebbe fare qualcosa in più, ma penso che nell'analisi di oggi vada sottolineata soprattutto quello che poi abbiamo messo dentro la partita, ovvero la sofferenza perché poi ci ha premiato. Come ho detto prima, tutti piacerebbe vincere con facilità, però questa non è la categoria in cui ce lo possiamo permettere. Grazie